Attraverso scuola, che lavoriamo con ragazzi, studenti, giovani di tutto il mondo, hanno visto che in ogni caso, in ogni paese, questa problematica esce sempre come una problematica grave. I docenti, alcuni volte, quando i ragazzi vadano a dire, mi hanno successo qualcosa, non sanno che cosa dire, i genitori non sanno, i docenti non sanno. L'idea di questo osservatore, osservatore scusa, è giustamente trovare delle soluzioni, ma non soltanto gli accademici o esperti, soltanto con i ragazzi, lavorare tutti insieme, questa è l'idea di questo osservatorio.